Oh, ma che cazzo fai? T'ho messo paura, eh? Ma lo sai che non si può entrare con le motociclette a qua dentro? E che bella è i motocicletti, queste? Oh, questi sono i aeroplani, oh! Ma tu, chi sei? Siamo i figli del pianeta nero. Queste sono le fotografie come ci ha chiesto il regista. Ci tengo a sottolineare che questi ragazzi è il meglio che tu puoi trovare a Roma. Questa gente che ce l'hai parla che non sai così, eh? Quella che c'era uno di loro che non mi convinceva. Allora sono andato a cercare la capua. Questo per dimostrare come sono meticoloso nel lavoro. Capua, via un attimo qua. Non guarda, che ragazzino, questo si è fatto tre anni di carriera per aver accortellato il zio. Di dove sei tu? Di capua. E perché hai accortellato il tuo zio? Perché mi scassavo cazzo. Ah, per niente. Ma che fai, la comparsa tu? Che faccio io? La comparsa? Non ti scherzi a voi. Io sono attore, regolare iscritto al collocamento, all'occorrenza stampa e in scene pericolose. Quando dico scene pericolose mi riferisco a scene dei crolli. Terremoti, inabissamenti, stupri, tutto. E basta? Eh, va bene. Andate bene per la scena dei meteoriti che vi vengono addosso. A noi non ci frega niente. A noi ci può venire addosso pure in treno. Basta che ci pagate. Sì. Sì. Sì.